Ieri sera a Giffoni Vallepiana i carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno arrestato una ragazza del posto che trasportava un involucro con 50 grammi di cocaina nascosto nelle zone intime. La ragazza, classe 1997 d'incensurata, gestisce un circolo ricreativo con il padre, arrestato un mese fa anche egli per possesso di stupefacenti. Dopo i rilevi del caso, la 21enne è stata condotta in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Grazie.